Brian McGuinness, Wichterstein, il sottotitolo è Il giovane Ludwig, 1889-1921. Edito dal Saggiatore, è un libro praticamente scomparso, difficile da trovare anche nelle biblioteche ed è stato pubblicato nel 1990 ed è la biografia di quello che è il più importante o almeno uno dei due più importanti filosofi del Novecento, Ludwig Wichterstein. Quello che sto per leggere è un famoso aneddoto che Bertrand Russell raccontava del suo rapporto con Wichterstein, è molto breve ma nella sua formula icastica ci fa capire chi era Wichterstein. Scrive così Russell Una volta gli chiesi, stai pensando alla logica o ai tuoi peccati? A entrambi, rispose e continuò il suo andare e vieni. Non osavo accennare al fatto che era ora di andare a letto perché sembrava probabile a lui come a me che se mi avesse lasciato si sarebbe ucciso. Wichterstein discendeva da una ricchissima famiglia dell'impero austro-ungarico. È nato nel 1889 ed è morto negli anni 50. Era un'autodidatta. È diventato filosofo senza frequentare le facoltà di filosofia. La sua originalità è tutt'uno anche con la sua bizzarria, con la sua straordinarietà di personaggio. Era omosessuale, si innamorava anche dei suoi allievi. Era un pensatore talmente originale che anche per i filosofi che l'avevano accolto a Cambridge, il suo pensiero era qualcosa di inedito. Questa biografia copre soltanto un periodo della vita di Wichterstein, quello che va dalla nascita fino al 1921. Meg Guinness è stato il curatore delle lettere di Wichterstein che sono state tradotte anche in italiano dall'editore Adelphi. Questo libro doveva essere il primo di due volumi dedicati alla biografia di Wichterstein per coprire l'intero sviluppo della sua esistenza. Purtroppo ha scritto e pubblicato solo questo volume che è oggi assolutamente introvabile. Che cos'è che ci affascina nella biografia di Wichterstein? Ci affascina il fatto che è un genio. Ma questo genio ama andare al cinema, a vedere i polizieschi, ama i romanzi gialli, ama passeggiare e discutere con i propri allievi. È una vita assolutamente particolare e straordinaria. Wichterstein ha rinunciato a tutta la sua ricchezza. Bisogna dire che l'opera per cui Wichterstein è diventato inizialmente famoso è il Tractatus. Questo Tractatus è un'opera che Wichterstein ha portato con sé durante la Prima Guerra Mondiale, dove è andato volontario a combattere, catturato dagli italiani, è stato prigioniero a Cassino. E aveva dentro il tascapane, dentro il suo zaino, il manoscritto di questa opera che è destinata a cambiare la filosofia del Novecento. Perché leggere questo libro? Beh, intanto per curiosità, per sapere e conoscere nei dettagli la vita di questo uomo così eccezionale, questo genio unico che è imparagonabile con nessun altro filosofo del Novecento. Perché è una persona con una vita complicata, resa complicata dal suo carattere, dall'appartenere a questa famiglia ricchissima dell'impero austro-ungarico, dall'essere un uomo assolutamente fuori dall'ordinario e anche bizzarro, capace di interrompere e rompere le amicizie soltanto per delle discussioni filosofiche. È un uomo assolutamente intrattabile, ma la curiosità verso questo atteggiamento e questo carattere non fa che aumentare di pagina in pagina, perché McGuinness ci fa capire che cos'è un genio visto da vicino. Grazie a tutti.